Forse così è meglio, bisbiglio come un serpente, dei serpeverde, tipo Dragon Malfoy, ho perso per colpa del test, ma quindi Marra è gender fluid, ciao Marra, dai timmi l'indirizzo Marra tu ormai te l'hai citato, così è perfetto, ottimo, allora praticamente così è troppo gay, dai Marra già me sto a preparare questo bisbiglio, bene. Così top proprio, perfetto, perfetto, così fai orgasmare i criceti, così è perfetto zì, culo, meglio, Marra ingravitami, non sento un cazzo, asa, nissima asa, asa, nissima asa, ci sentiamo stasera, perfetto, gay è il punto giusto. Crepe zì, meglio del porno della Nappi, non che ci voglia molto, no scherzo, in realtà è bravo a fare porno, almeno quello, il problema è quando parla di cose che fanno fuori dalla sua portata. Il mio pivo non può reggere certi simboli, ah ah, Marra fitnappi, magari, ah ah ah, sembrava young signorino. Mi sto preoccupando zì, mi si sta intorgendo la cappella, è normale Lorenzo, non ti preoccupare. Pompone le casse, pompone le casse, risate svegliate, sono il massimo, sono gay, allora stasera per la rubrica maschi, bianchi, gay. La legge è sacra, mangiate il microfono, no quella era la tizia in un giorno in pretura, vogliamo il fit con Marco Tonio, sempre meno gay di prima. Merluzzo vuoi imparare solo, ci mancherebbe altro, tra l'altro l'ho anche invitato a Geppero a Boscar, Maurizio Merluzzo, e verrà. Marra non ti vedo più, dietro lo sfermo, go che esci in merda, ma fatelo tacere questa rana, come ti permetti, pezzo di merda. Vuoi essere bannato? Satan è fighissimo. Ok, basta.